Ciao a tutti ragazzi, oggi vi parlo delle Oka Mafate Speed 4, le scarpe che ho utilizzato per correre il trail green e sud extreme, delle scarpe che mi hanno convinto e di cui adesso vediamo pregi e difetti all'interno dell'accensione completa. Come al solito inizio a parlarvi di queste Mafate Speed 4 dal loro peso. In Italia 42 o US 9 pesano 300 grammi, nel mio 47 sfioriamo i 400. È un peso che inizia a farsi sentire, quando mettiamo al piedi queste Mafate vi assicuro che un po' lo sentiamo che abbiamo una zavorra ai piedi, non sono proprio delle scarpe super leggere. Ma iniziamo a parlare di queste Mafate dalla loro suola. Troviamo una Vibram Mega Grip modello Light Base, quindi la mescola è Mega Grip e la suola è modello Light Base. Queste nuove Light Base cosa sono? Praticamente sono andate a diminuire un pochino la spessore della suola per andare a diminuirne anche il peso. E un aspetto sul quale voglio soffermarmi a proposito di questa suola è la conformazione del tassello. Troviamo dei tasselli alti 5 mm ma che sono fatti diciamo a gradoni, nel senso non è un tassello unico come se fosse un piccolo quadratino. Sono fatti proprio a gradoni, cioè il tassello va su piano piano. E oltretutto, oltre ad avere questa struttura a gradoni, troviamo anche tutta una parte di pezzettini di gomma che escono per andare ad aumentarne ancora di più il grip. È un tassello molto particolare che però vi assicuro dà un'ottima stabilità quando andiamo a correre sul fango. Queste scarpe sul fango sono veramente molto prestazionali e posso assicurarvi perché io ci ho fatto il trail in Grignesud in cui di fango veramente ne ho trovato tantissimo. E comunque non sono andato a cadere per terra nonostante abbia visto altre persone con altri tipi di scarpe che sul fango scivolavano molto di più rispetto a quanto facessi io con queste mafate. Quindi per quanto riguarda il fango, promosse. Ho voluto provarle anche su una mulattiera fatta di sassi particolarmente umidi in una giornata di quest'autunno e lì mi ha lasciato un pochino più insoddisfatto nel senso che quando vado a spingere la scarpa parte un po' via perché il grip non è così ottimale. Quindi diciamo che su fango, perfetta. Quando andiamo su rocce bagnate, stenta un pochino. Per quanto riguarda invece l'asciutto, nulla da dire. Un aspetto sul quale voglio soffermarmi inoltre su questa suola è l'intersuola. Come vedete abbiamo tante parti di intersuola esposto e questo, ve lo ripeto ormai da tante recensioni, a me non piace. A me non piace perché se la suola Vibram magari ci garantisce 600 km di utilizzo della scarpa, avere l'intersuola così esposto va a far rovinare molto prima la scarpa e magari arrivati a 400 km dovremo buttarle via perché avremo l'intersuola completamente andato. E visto che abbiamo iniziato a parlarne, continuiamo a parlare appunto dell'intersuola. Qua troviamo un'intersuola ProFly Plus di Oka, un'intersuola a doppia densità che, allora, è il classico di Oka, nel senso stiamo parlando di scarpe che quando noi andiamo a inserirci il piede questo va letteralmente quasi a sprofondare. Il ritorno, la reattività di questa scarpa è quasi nulla. Quando ci corriamo a ritmi sui 5,30 km o 5, andando via più sotto, lo sentiamo che la scarpa non ci risponde. Cioè, tutta l'energia che noi mettiamo per correre, la scarpa va a farla defluire e non ce ne restituisce. Poi va bene, parliamo alla fine per chi è pensato a questa scarpa, però la reattività è quasi nulla. In compenso, però, la suola insieme all'intersuola, visto che è bella alta, ci dà modo di non sentire nulla sotto i piedi. Se andiamo a prendere rocce, radici o cos'altro, non sentiremo nulla sotto i piedi, quindi è molto ben isolante dal terreno. E visto che ci sono, parliamo anche di drop, ha un drop di 4 mm, che è comunque abbastanza basso per non essere una scarpa pensata per le Ultra. Continuiamo nella recensione salendo sempre di più, arrivando a parlare di tutta la parte della tomaia. Inizierei dal puntale. Un puntale bello protettivo, bello strutturato, con un bel fascione in gomma, qua attorno, che mi ha convinto perché davvero prendiamo dentro rocce e non sentiamo assolutamente nulla. Una nuova tomaia realizzata con nuovi materiali, che mi ha convinto, nel senso che i materiali sono fatti veramente molto bene, soprattutto c'è tutta una parte qua sopra, vicino ai lacci, comunque nei punti in cui di solito va a rompersi maggiormente la tomaia, che è fatta in materiale plastico e che quindi va a garantirne ancora di più la durabilità per quanto riguarda la tomaia. Per quanto riguarda la traspirabilità, ho avuto modo di utilizzarla anche in una giornata abbastanza calda e la traspirabilità è buona, non è super ottimale, però dai, diciamo che un bel 75-80% ci sta. È una scarpa che va bene, magari non la utilizzerei tanto quando fa veramente molto molto caldo, però per correrci in alta montagna può andare super bene. Continuiamo, arriviamo a parlare del tallone, un tallone abbastanza morbido, non tanto strutturato, che sì, allora diciamo che un po' ci aiuta a restare in carreggiata, ma non troppo. Se dovessimo andare a correre su qualche terreno particolarmente impegnativo, tecnico, diciamo che un tallone un pochino più strutturato in quel caso l'avrei preferito. E per quanto riguarda il tallone, qui ritroviamo questa bella linguettona finale, questa conchiglia, che non mi aveva convinto sulle speed goat perché entrava davvero tanto materiale. Allora, qui diciamo che mi è entrato ancora materiale, meno rispetto alle speed goat. Sembra che un passo un pochino in avanti l'abbiano fatto, ma ancora qualche sasso entra. Per quanto riguarda la morbidezza, invece, vi assicuro che è davvero morbida. Cioè, noi ci mettiamo dentro il piede, non avremo nessun punto d'attrito, io non ho avuto nessuna vescica. Da questo punto di vista, sì, è una scarpa molto molto morbida. Continuando, arrivo a parlarvi dell'allacciatura. Lacci abbastanza classici, nulla di eccezionale, svolgono bene il loro lavoro. Io mi ci sono trovato bene, non si sono spezzati nell'utilizzarli, quindi nulla da dire, è una lacciatura veramente molto molto classica. Infine, la linguetta è ben imbottita, svolge bene il suo lavoro, ci isola dai lacci, resta ferma quando corriamo, quindi anche lei funziona molto bene. Parlando un attimo della zona dell'avampiede, devo dire che queste mafate sono abbastanza larghe. Non siamo a livelli, naturalmente, di altra o topo, che hanno scarpe molto larghe, però rispetto alle 3 e rispetto alle Spigo 5 hanno un avampiede comunque abbastanza largo. Per gli standard di Oka è forse la più larga che ho abbia mai provato. E finiamo la nostra recensione parlando della Soletta. Soletta che non mi ha dato problemi, mi ha convinto, con i lacci ben allacciati il piede non mi ha mai scivolato, quindi Soletta che va bene, nel senso nulla da dire. Arriviamo dunque alle conclusioni per queste Oka mafate spiete 4. Ve le consiglio, sì, io mi sono trovato veramente molto bene. Sono scarpe, se non fosse per l'intersuola così esposto, col quale potremmo andare avanti per tanti, tanti chilometri. Sono scarpe che sono comunque abbastanza linee rispetto agli precedenti, non hanno fatto uno stravolgimento così grosso se non aver cambiato comunque il materiale della tua maia. Per il resto, sì, diciamo che sono abbastanza le classiche mafate che conosciamo. A chi le consiglio? Le consiglio a persone che quando fanno le gare non corrono veloci. Per intenderci, se siete persone che camminano tanto, se siete persone che non hanno obiettivi di classifica, allora possono andare bene. Sicuramente per gare di ultra, con queste io non avrei paura a doverci fare magari anche un Tour de Jeanne, per esempio. Non le consiglio a chi vuole una scarpa reattiva, una scarpa col quale spingere, una scarpa col quale andare a cercare la performance. Diciamo che va bene a tutte quelle persone che stanno dalla metà classifica in giù. Perciò ragazzi, io nella speranza di essere stato esaurito interesaustivo anche per questo video, vi ringrazio per averlo guardato e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!